Ecco giorni e orari dei primi cinque turni di campionato. Il Pescara esordirà l'Adriatico Giovanni Cornacchia sabato 2 settembre alle 20.45 contro la Juve Under 23. Ma se il prossimo 29 agosto il Consiglio di Stato dovesse ribaltare la sentenza del Tar, il Delfino scivolerebbe nel girone C. Eventualità tuttavia assai remota. Il Pineto, debutto storico, giocherà a Gubbio venerdì 1 settembre alle 20.45. Seconda giornata Pineto, Virtus, Entella, venerdì 8 settembre all'Adriatico Giovanni Cornacchia ore 20.45. Pescara invece in posticipo a Perugia domenica 10 alle 20.45. Terza giornata Pineto sempre di venerdì il 15 settembre ad Ancona ore 20.45. Pescara in casa contro l'Arezzo sabato 16 alle 20.45. Quindi il primo turno infrasettimanale Pineto Rimini all'Adriatico martedì 19 settembre alle 18.30. Pescara a Carrara contro la neopromossa Sestri Levante martedì 19 settembre alle 20.45. Infine Pineto Pescara domenica 24 settembre alle 20.45. Da stabilire dove il Mariani Pavone sarà infatti pronto a fine ottobre. Dal 21 settembre al 1 ottobre l'Adriatico ospiterà gli europei master di atletica leggera. Il mercato rosa al momento inferiore rispetto a quella dello scorso anno. Di certo non all'altezza di un campionato di vertice. Tra l'altro anche incompleta. A centrocampo manca almeno una mezzala funzionale al gioco del Boemo. I tempi per l'ingaggio di Daniel Sannipoli si allungano sempre di più. Il contratto dell'ex Trastevere scade il 30 giugno 2024. Non rinnoverà con Latina e ha già un accordo da settimane col Pescara. Il club Pontino intende monetizzare il più possibile la cessione. L'ultima richiesta è di 70.000 euro. Il Delfino offre 30.000 euro più il 25% sulla rivendita futura. Non di più. Delicarri valuta alternative. L'ideale sarebbe stato Tribuzzi che però non è in uscita dalla crotone. Tra i papabili non c'è Lombardi, ex imolese di proprietà della regina. Almeno sino al 29 agosto. Giorno in cui, come detto, si riunirà il Consiglio di Stato. Di cabasci offerto dalla reggiana. Ha parlato il presidente Sebastiani nel corso dello speciale calcio-mercato su Rete 8 lunedì scorso. Purtuttavia, l'ex Biancazzurro non sembra il profilo adatto. A Delicarri piace Stefano Girelli. Classe 2001, appena ingaggiato dalla Sampdoria. Cresciuto nella Cremonese, stato tra i protagonisti dell'impresa a promozione dell'Eco in B. Difficilmente il club Doriano lascerà partire Girelli, il cui ingaggio è fuori dalla portata del club Biancazzurro.